A Beirut, nella zona del porto, delle fortissime esplosioni hanno causato decine di morti e migliaia di feriti e molte grave distruzioni. Preghiamo per le vittime e per i loro familiari. A Beirut, nella zona del porto, delle fortissime esplosioni hanno risposto per i loro familiari. Sì, è vero, è vero. WHO will also provide medical supplies to health facilities across the country that are receiving and treating injured patients. We also stand ready to provide any other urgent support as needed. Thank you.